io scusa volevo ringraziare anche christian ice che ci ha aiutato nello sgruppare il concetto di wall of love in maniera profonda cioè lui ha battuto la parete grazie christian ice grazie roma allora stasera è un concerto speciale abbiamo una sorpresa speciale per voi un pezzo che non suoniamo da tanto tempo perché non siamo capaci e stasera sarete testimoni se anche a voi piace la buona cucina allora saprete cantare con noi le note di carcan your song